In questi giorni, ho visto sempre il numero maggiore di militare presidiare strade e piazze. L'inalzamento della criminalità. Disloccamento dell'esercito ed una totale controllo. Che tipo di ricerche facevano qui? Queste persone non si fermeranno mai. E se non li fermiamo? Politici e banchieri. Altro che spianaggi industriali. C'è una sorta di governo a ombra. Capace di decidere delle sorti di intere popolazioni. E più mi accorgevo che c'era ben altro sotto. Andiamo a cercare risposte. Sai cos'è che placa la voglia di uccidere? Uccidere. Cosa pensate più? Vorrei finire tutto questo. Io vado dentro. Ilesco. E per consuma. Avellcha. Ma ora...